Una prima informazione sul lavoro istruttorio, finora compiuto in ordine al progetto di rilancio e riconversione del polo del salotto Murgiano, avrà luogo il 17 a mattina, a Matera, con i rappresentanti sindacali, i dirigenti del distretto, le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindaci dell'area interessata. Lo dichiara l'assessore regionale a formazione del lavoro Vincenzo Viti. L'incontro, aggiunge l'esponente dell'Aggiunta De Filippo, vedrà la partecipazione dell'assessore Pittella, del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Sappino, del presidente di Invitalia Arcuri, di Sviluppo Basilicata, di Basilicata Innovazione e del consorzio Asi-Valbasento. Si tratta, spiega l'assessore, di un utile passaggio informativo che dovrebbe consentire di monitorare il livello del lavoro compiuto, di definire gli ulteriori svolgimenti e di preparare l'incontro finale che dovrebbe vedere entro il 30 settembre l'epilogo di una vicenda durata fin troppo. Quanto all'avvertenza Ferro Sud, l'assessore alla formazione del lavoro della regione Basilicata, fa sapere che l'incontro convocato a Potenza per il prossimo 18 settembre, alle ore 10, tra Ferro Sud, Consorzio Industriale e Parti Sociali, è finalizzato ad un esame delle criticità emerse nella sede di Confindustria, in ordine alle relazioni in essere tra azienda Asi e Ferrovie dello Stato circa la gestione e l'agibilità del tronco ferroviario e del connesso raccordo di Casal Sabini, fondamentale per l'esercizio delle attività dello stabilimento materano.